Siamo pronti per l'anteprima della prima. Buonasera, chi è questo personaggio? Dottore. Il dottore. In questo momento che gemello siete? Il primo, il secondo? Il primo. Il primo gemello. Scusa, lo vuoi chiamare il tuo fratello? Facciamo una foto tutti insieme. Dopo la facciamo, sì, sì. C'è il provolo. E' un ancello. E' un ancello. Oh, eccole qua. Che bella. Ragazze, come va? Tutto a posto? Tutto bene. Nessuna emozione? No. Ormai siete delle attrici cariche, cariche, cariche. Speriamo di non essere troppo cariche. Si diventa esplosivi a questo punto. Sarà uno spettacolo scintillato. Ce lo auguriamo. Che cos'altro posso fare? Questa verdura a che serve? Ah, la spesa al mercato. Quando tu... La prima della faccio la sede. Fammi vedere. E lui chi è? Cilindro. Cilindro? Buonasera. Bravo. La luce è più in questo. Però la luce non è adatta. Mettiti più in luce. Dove signora? No, non si vede bene. Vieni fuori. Vieni fuori. Eccolo, è magnifico. Bellino quell'abitino. E anche i calzari. Mi piace, signora? Sì, ma... Un depillé non si usa? No, di quei tempi. Ai maschià ci piacevano con i peli. Buonasera, venite avanti. Fatevi vedere come siete bella con questo vestito. Qui sotto la luce che altrimenti non vi vedo. Eccola. Amarino, guarda. Siamo pronti? Amarino, guarda. Perché è tua sorella? Ecco. Pensi che stasera mattina e se non c'è te meno, sta cattando. No, guarda. Pensi che è un bel mattino, guarda amazzata. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Ecco. Ma ho visto il cilindro di là. Ma questa è pornografica questa foto. È pornografica. Ma il cilindro è stato più spacciato. Si è fatta vedere con una gampa un pochino poco depilata, ha detto che non si usava. E' bellissimo con questo vestito. Questa è un'ancella? Sì, sono un'ancella. Il camerino ci sta ancora? C'è la truccatrice. C'è la truccatrice qui all'opera. Ciao Bettina, tutto bene? Sì, tutto bene. Sei quasi pronta? Vuoto? Un po' di ristoro. Vai, chiudiamo su queste scene, vai, che siete tutti bellissime. Non offru imparando. Questo si è un po' di ristoro. E non lo fanno qui viene? Non si è un po' di ristoro. Non si è un po' di ristoro.